Belsito Hotel Le Due Turri, a mano calzati, a circa 200 metri dall'uscita a Vellino Est della Napoli Bari, www.belsitoteldueturri.it L'analisi critica è di Antonio Bassolino che annuncia la partecipazione al prossimo congresso nazionale. L'ex governatore resta, seppure molto criticamente, nel PD. Dichiarazioni a margine della presentazione del libro del professor Luigi Anzalone, Gli eroi nel paese della mafia, un dibattito molto partecipato e che ha espresso grandi valori morali. Gli eroi in fondo sono quelli che nonostante tutto compiono il loro dovere non piegandosi. Ma l'affare corruzione, questi sono i mali della politica che ruba il futuro ai giovani. Alcuni passaggi dell'intervista ad Antonio Bassolino. La politica spesso appare troppo distante, separata, ma se la politica non parte dalla realtà, dai bisogni delle persone, vorrei aggiungere anche dai sentimenti delle persone, diventa astratta, lontana. Non è una bella cosa questa successione nel PD rispetto ai temi del Paese Reale? Io sono per stare assieme quanti più è possibile. Però quando succedono fatti di questo tipo dipendono non solo da chi esce, ma anche da chi non ha fatto di tutto per non farli uscire. Ci sono delle prospettive che sembrano aprirsi con Emiliano, Orlando? Vedremo. Ora si va al congresso. Il congresso sarebbe stato più forte e più produttivo se avessimo avuto questa discussione alle spalle. Si discute di più sui nomi e questo secondo me è un punto debole.